Ciao a tutti, puntata sperimentale con lo smartphone e verso l'equazione di Maxwell, anzi utilizzando l'equazione di Maxwell e vedere come si riesce a misurare il campo magnetico con lo smartphone, questo è uno dei tanti software Firefox, uno dei migliori a dire la verità, che misura le tre componenti del campo magnetico con lo smartphone e con i trenini che è uno dei vari modi di generare i campi magnetici e interferenze che possono essere appunto misurati con il MEMS, con il magnetometro tipo MEMS appunto che è all'interno dello smartphone. Aveva fatto anche una puntata sulle accelerazioni, ma insomma ci sarebbe da fare una serie completa sui telefonini e quello che si riesce a fare. Comunque sia, trenini e smartphone, in realtà il trenino dovrebbe essere per ultimo, ma partiamo di botto, senza senza appunto con il trenino. Qui abbiamo i binari scala N per chi è interessato, della ferrovia, Tomix di nuovo come tipo di binari, il motore pure, il motore è canto con uno chassis in lima, ma è rilevante, le tre componenti del campo magnetico X, Y e Z, la componente Y è parallela all'asse lungo dello smartphone. Vedete che quando passa il trenino l'interferenza elettromagnetica causata dal passaggio del motore e dal fatto che qui passa corrente vi crea questo spike, questa variazione repentina del campo magnetico. Se vai indietro in realtà qui è un po' sfocato, scusate, non si vede bene, ma la transizione è al contrario, ma insomma lo spike è lo stesso. Che cosa succede? Succede che i trenini sono in alimentazione continua a variabile fino a 15 volt, quindi c'è un potenziale positivo su questo binario qua e negativo su quest'altro. Questo vale solo per i trenini, non vale per i treni. Per i trenini, quindi qui c'è una differenza di potenziale, se non c'è, se è solo differenza di potenziale, non c'è passaggio di corrente, non c'è generazione di campo magnetico e non c'è niente, quindi il campo è quello terrestre che vedremo tra poco. Quando, lo facciamo divertire, passa il trenino, eccolo qua, passa la corrente, passa nel motore all'interno del trenino, questo è un altro chassis, sempre dei vecchi Lima, e dà questa botta di induzione elettromagnetica, ossia legata al fatto che appunto il campo magnetico varia e c'è una corrente che viene generata dal passaggio di corrente nel motore che genera un campo magnetico che viene rivelato appunto dal MEMS. Ecco qui un'altra ripresa sempre col trenino, le tre assi, vedete si può variare la polarità e far andare i trenini in avanti e indietro, ma insomma la sostanza è la stessa. Notate anche che le fluttuazioni del campo magnetico misurate, che è praticamente il campo geomagnetico terrestre, sono molto più piccole dell'interferenza generata appunto dal passaggio del treno, ma anche il passaggio del trenino non è un'interferenza enorme, qui si legge poco, ma insomma qui parliamo di 25 microtesla e l'aggiunta è di 5-6 tesla in un verso nell'altra. Tra l'altro variando anche la velocità del trenino, in realtà l'intensità dello spike non cambia più di tanto, è un segnale abbastanza repentino legato appunto al passaggio del veicolo. Se lo si ferma, non so se si vede, se lo si ferma si può vedere che il campo rimane più o meno, la variazione di campo rimane costante perché sta fluendo corrente anche senza il passaggio del motore. Questo è una screen capture del campo magnetico, appunto l'app è Firefox, scritto con tutte e due col pH, c'è dentro di tutto, c'è anche l'accelerometro, c'è dentro le trasformate di Fourier, l'oscillazione e così via. Nel caso del campo magnetico appunto ha due tipi di funzionamento, le tre componenti e poi la trasformate di Fourier. Questa qui è quella con le tre componenti, l'asse delle X è sul lato corto dello smartphone, l'asse delle Y è sul lato lungo e l'asse Z è la famiglia raterna ordinata con la lega della mano destra, quindi è uscente dallo schermo verso di voi. Questo qui sono misure fatte con una calamita di neodimio, quindi se avvicinano e allontano la calamita vedete che qui sempre il microtesla, quindi milionesimi di tesla stiamo parlando, ma la calamita fa due millitesla perché anche tre millitesla, poi andrebbe fatto il modulo di questi tre componenti, ma insomma è un segnale molto molto intenso perché appunto è legato alla magnetizzazione della calamita. Mentre appunto il trenino prima intorno ai 10-20 microtesla aggiungeva 5 microtesla, quindi il passaggio del motore è molto più piccolo come intensità. Ovviamente la frequenza è differente, ma anche questo dà un po' l'idea di quando uno dice che i campi magnetici sono pericolosi per la salute, sì, parte che dipende dalla frequenza, tante frequenze può essere differente, ma bisogna anche vedere l'intensità. Questa appunto è la calamita, questi sono gli assi, tra l'altro il magnetometro, se volete giocare con queste cose appunto vi scaricate l'app, vedete come è fatto il segnale, prendete una calamita e lo muovete sullo schermo, intorno al telefonino per capire dove è il magnetometro. In questo caso qua, Pocophone, per fare pubblicità, non è distribuita purtroppo, è in questo angolo qua. Il MEMS si trova in questo angolo qua e lo vedete perché appunto l'intensità della calamita è più alta quando, o meglio, l'intensità del campo magnetico è più alta quando la calamita è vicina a questo punto qua. Con questo si può misurare tranquillamente e semplicemente il campo geomagnetico. Dopodiché è vero che si può fare ancora più tranquillamente e molto più semplicemente con la bussola, ma di nuovo il campo magnetico terrestre è misurato meglio con le tre assi appunto dell'app. E in pratica, ecco, possiamo farlo anche ripartire, questo qui, buttiamo il vecchio segnale, lo facciamo ripartire. Eccole qui, queste sono le tre componenti del campo geomagnetico che però purtroppo spariscono perché la soppressione dello sfondo le fa sparire, accidenti a lui. E parliamo di numeri che tu hai 30 microtesla, che è il valore tipico sulla superficie terrestre, con le tre componenti che ovviamente dipendono da come io oriento il mio cellulare. C'è da dire che la bussola, se uno la osserva con estrema attenzione, l'ago della bussola non è perfettamente coplanare al tavolo, ma è leggermente inclinata perché appunto il campo magnetico terrestre può essere immaginato come un gigantesco dipolo invertito, quindi il polo nord, in realtà le linee di campo uscenti sono al polo sud all'Antartide, inclinato di 11 gradi rispetto all'asse di rotazione terrestre e anche spostato ai 200 chilometri dal lato opposto al sudatlantico, tanto più che c'è la famigerata anomalia del sudatlantico che è causa dell'attraversamento della stazione spaziale alle fasce di radiazione ed è un terzo della dose di radiazione ionizzante, che non è pericolosa ma insomma va controllata, degli astronauti è dovuta al passaggio della fascia interna di Van Allen, che è appunto la fascia intrappolata dei protoni. Quindi le nostre calamitine a 40 gradi si sono inclinate ma non tantissimo, ai poli, soprattutto quello geomagnetico è proprio verticale, quindi non funzionano essenzialmente, idem a polo sud e queste sono le tre componenti degli assi. Eccolo qua, se uno cerca di orientarlo sempre seguendo l'asse x, y, z che dicevamo prima e lo cerca di mettere parallelo all'asse y qui è come è orientato il campo geomagnetico. Quindi vedete che c'è una grossa componente inclinata verso il basso, questo perché l'asse delle x, vedete questo qui, sono in grosso modo 0 microtesla, le oscillazioni, perché comunque c'è tutto un filtraggio che deve essere fatto, ma comunque l'oscillazione della misurazione intrinseca sono intorno a più 2 microtesla, quindi 10%, meno del 5% di precisione, in realtà la precisione si può aumentare molto facendo la media, l'asse y ha il massimo intorno a 24 microtesla, può essere anche di più a seconda delle zone, anche di come si fa la misura, ma insomma vedete che il grosso del campo è qui, perché anche lungo l'asse delle z, che in questo caso è uscente dalla superficie del telefonino, è anche qui oscillante intorno a 0, non proprio intorno a 0, ma un po' di più, perché comunque l'inclinazione è quella che è, qua ci ho dovuto anche mettere lo scotch per tenere ferma tutta la baracca. Ma comunque l'asse delle y è questo, il grosso del campo magnetico è questo, e quindi è un campo magnetico inclinato verso il basso, di nuovo, perché anche il dipolo è invertito. L'avevamo visto tante volte anche nelle puntate precedenti, e ovviamente il campo geomagnetico ha delle oscillazioni, si muove, queste qui appunto sono la posizione dei poli delle linee di campo magnetico, che poi sarebbe il vettore induzione magnetica B, ma insomma qui non lo stiamo a sottilizzare, che varia in funzione degli anni, perché ci sono delle correnti sotterranee nel nucleo che tendono a variare e appunto a cambiare sia l'intensità che la direzione di queste linee di campo. Le variazioni sono simili a quelle del Sole, solo che lì sono molto più regolari, avvengono ogni 11 anni una inversione, 22 anni una doppia inversione, con armoniche, cioè con anche dei termini un po' più lunghi, anche di 100 anni e più, ma il grosso sono 11-22 anni. Però nel caso del campo magnetico terrestre le variazioni sono molto più complicate, durano molto più a lungo, hanno periodi anche di 100 mila anni, un milione di anni anche lunghi, che di polarità. E questo si vede perché il magma, che fuoriesce soprattutto dalla faglia nell'Atlantico, poi si solidifica e si polarizza la parte ferromagnetica a seconda di come è il campo magnetico in quel momento. Quindi via via che questo si allarga, uno riesce a studiare come cambia il campo magnetico. Lo si può fare anche con il microonde, vediamo se questo è pure il video del microonde. In questo caso, vediamo prima il segnale, in realtà parte della trasformata di Fourier, ma vediamo il segnale, vedete questo qui è la trasformata di Fourier del segnale, questo è il segnale del tempo. Non è, allora attenzione, c'è da dire che questo non è il segnale delle microonde. Qui stiamo misurando variazioni di campo magnetico molto molto più bassi e non oltre i 40 Hz. Le microonde stanno proprio appunto a gigahertz. È assolutamente impossibile misurarlo con questo. Quello che si misura è i motori e tutta l'elettronica di circuiteria che va a pilotare il magnetron, che immette le microonde all'interno della camera, le microonde che è una gabbia di farde. I fori sono fatti appunto perché le microonde che hanno lunghezza di vari centimetri non possono fuoriescegliere da qua, però si misura quando viene acceso e spento il motore e vedete a parte questo andamento sinusoidale variante con alta frequenza con una sinusoide che varia nel tempo, poi ogni tanto non si sa perché tiene un valore costante, poi rimodula e così via. Andrebbe studiato più in dettaglio, ma insomma questa è la variazione nel tempo e appunto se uno va a fare la trasformata di Fourier trova che anche la trasformata di Fourier varia nel tempo, ossia sono le armoniche, ossia se uno vuole parlare in termini di acustica perché tanto la matematica è esattamente la stessa, questi sono i bassi, qui sono i medi e questi sono le acuti. Qui però in realtà alla voce andiamo fino a 22 kHz, 44 se vogliamo campionare al doppio, tanto più che la famigerata frequenza di Niquis e lui dice guarda, io al massimo arrivo a farti la trasformata di Fourier a 50 Hz, quindi 50 oscillazioni del campo magnetico al secondo, quindi siamo proprio in tutt'altro universo rispetto alle microonde. Vediamo ora che succede quando c'è un filo percorso da corrente. Allora per fare questo è necessario un alimentatore da banco, va bene qualunque alimentatore, però qui c'è la sottigliezza che questo qui può essere limitato in corrente, ossia questo alimentatore crea una tensione di 46 volt con al massimo un ampere, un ampere e qualche cosa e se c'è un cortocircuito lui automaticamente smorsa e non fa scorrere la corrente. Questo perché va detto? Perché io collego questo filo di rame direttamente all'alimentatore, quindi la resistenza è praticamente zero, traspurabile, e quindi quando lo accendo tutta la corrente va a fluire nel circuito e potrebbe bruciare e danneggiare alimentatori che non sono limitati in corrente. Se volete farlo a casa, fatelo con attenzione e non mi assumo ovviamente nessunissima responsabilità, ma ci dovete mettere una resistenza in serie. Se c'è una resistenza in serie che modera e controlla il passaggio di corrente, allora l'oggetto non si sfonda, altrimenti rischiate veramente di sfondare tutto e anche fare danni, forse anche all'alimentazione di casa. Questo è un filo di rame, questo rame qui tra l'altro è ricoperto di plastica perché ci si possono fare appunto trasformatori e così via, quindi l'ho dovuto passare alla canna del gas accesa, non siamo alla canna del gas, al gas, per bruciare la plastica e far sì che il circuito poi si possa chiudere. Quindi è un filo idealmente infinito percorso da corrente, lo accendiamo, o meglio facciamo prima partire il magnetometro, quindi misura di nuovo il campo geomagnetico, quando lo accendo vedete che, mettiamo in pausa, la corrente passa nel filo, se vi ricordate un filo percorso da corrente ha linee di campo che sono cerchi, anche per simmetria, dette dalla regola della mano destra, qui non mi ricordo se va in questo verso, in quest'altro la corrente, perché l'avevo invertita tante volte, facciamo che va verso destra e quindi le linee di campo sono in questo verso qui. Ma comunque quello che è importante, di nuovo, è che vedete la variazione è quasi tutta sull'asse delle Y, anche sull'asse delle Z, essere onesti, ma il grosso è sull'asse delle Y, perché? Perché vedete c'è anche un po' di variazione sull'asse delle Z, perché l'asse delle Y è messo in questo verso qui, lungo, visto che è una spira circolare, la linea di campo, la linea di campo magnetico, ortogonale al filo, lungo l'asse delle X, che è parallelo al filo, vedete che non c'è proprio niente, non misuriamo nulla, perché la corrente che scorre in un verso non genera corrente, in quel verso va a diventare grosso o no, ortogonalmente, è idem per l'asse Z, non c'è quasi niente, una piccola variazione, perché comunque qui è messo tutto più o meno a occhio. Vedete che quando spengo risale al valore originale, quando riaccendo risale al valore di partenza. Se lo sposto, ovviamente le due componenti si mischiano, va lungo l'asse delle X, però quello che notate è che quando siamo passati sopra il filo, il campo magnetico si è invertito di segno, non proprio la stessa intensità, perché un po' se l'è presa l'asse delle Z, ma vedete, da un campo magnetico negativo, perché stavo lungo la linea di campo in un verso, sto sopra, la linea di campo lungo l'asse delle Y, gira nel verso opposto, e quindi sono passato al campo positivo. Ed ecco qua, queste erano le vecchie equazioni, le slide di Maxwell, questo è il mio filo percorso da corrente, qua in verticale, ovviamente nel video, è in orizzontale, la linea di campo è circolare, e quindi io mi ritrovo con un verso entrante, un verso uscente, e questa è l'inversione del campo magnetico. Vediamo che succede con un semplicissimo solenodio, il solenodio lo dobbiamo fare, essenzialmente sono tante spire percorse da corrente, il campo grosso modo è uscente, ortogonale a questa specie di spirale, e vedete qui ancora spento, quando lo accendo, di nuovo, è l'asse delle Y, che grosso modo è parallelo alla linea del solenoide, vedete che c'è questo salto, perché il solenoide, le linee di campo, sono tante spire più o meno parallele, le linee di campo sono ortogonali al piano della spira, e quindi grosso modo è parallelo all'asse delle Y, e anche qui vedete, l'asse delle X quasi non ne risente, quello che vince, e si becca tutto il solenoide, è l'asse delle Y, e poi se lo muovo, mi metto accanto, ovviamente un po' tutti i campi vengono misurati. Vediamo con la bussola, si può fare lo stesso lavoro, anche se non avete lo smartphone, prendete la bussola, ricordatevi la resistenza in serie al filo percorso la corrente, accendiamolo, e vedete che un minimo la bussola si muove, perché in realtà l'ago della bussola tende a, anzi, ritorniamo indietro, l'ago della bussola tende a orientarsi lungo la linea di campo, ma la linea di campo è ortogonale al filo, quindi tende un po' a inclinarsi, però purtroppo la corrente, o per fortuna, per sicurezza, la corrente che corre qui è piccola, e quindi quello che fa, ci sono due campi magnetici, quello geomagnetico che ti dice, guarda, il nord è di qua, il sud è di là, dai retta a me, giro di così, e poi c'è il campo magnetico addizionale del filo percorso della corrente che mi fa spostare un pochino l'ago, quindi per questo che poi bisogna stare attenti a tanti romanzi, film e anche purtroppo drammi reali, sono stati neofragi e così via, o anche incidenti, perché la bussola non funzionava, o perché c'erano interferenze. Con un filo percorso da questa corrente qui non si riesce a fare molto, a meno che non si fa, lo si avvolge intorno alla bussola, quindi a questo punto abbiamo tre spire percorse da corrente, quindi dovrebbe essere il triplo, ma in realtà è sestupolo, perché in realtà c'è anche, se volete, se lo immaginate come filo, la parte di sotto in cui la corrente gira al contrario, sta sotto, quindi si somma, oppure le potete vedere come le tre spire del solenoide, che è questo oggetto qua, e quindi il campo magnetico generato da una spira è ortogonale al piano della spira e quindi vedete che quando accendo la baracca, zoom, il campo geomagnetico non lo sento proprio e quella spira tende a orientarsi ortogonale al piano delle spira, ovviamente se fossero spira ideale veramente circolare e così via sarebbe ancora più ortogonale vista questa cosa qua, già un miracolo ovviamente che si è mossa la bussola, eccola qua. E tanto per concludere, eccola qua, questa è la slide ripresa dal campo magnetico che appunto, se vi ricordate, è solenoideale, quindi se voi fate la passeggiata il rotore al di fuori del generatore di campo magnetico la rotazione è nulla, se siete all'interno la rotazione è non nulla e questo genera il potenziale vettore. Ma questo, in questo caso qui, è solo per dire, vedete, la spira percorsa da corrente che può essere microscopica, macroscopica o anche magnetizzata, genera delle linee di campo che sono ortogonali e quindi la mia bussola, la coda della mia bussola tende a orientarsi in maniera parallela alle linee di campo magnetico. Vediamolo con un treno vero, questo era fatto su freccia rossa dentro il treno e anche qua, se andate sul treno e lo accendete, fate la trasformata di Fourier, questa è la trasformata di Fourier in funzione del tempo, ossia ogni, torniamo leggermente indietro, ogni secondo che passa è una riga colorata in più che va da 0 a 40 Hz, quindi di nuovo avete i bassi da questa parte qua, gli acuti da questa parte qua, quindi qui il grosso del campo geomagnetico, molto interferenze vedremo alle alte frequenze, vedremo perché, e qui è via via che scorre il tempo, lo vedete, scorre dall'alto verso l'alto, basso, un po' come o le cose di caccio ottobre rosso che però erano acustiche, oppure i diagrammi appunto sonici dei vari spettrometri e così via. Vedete che ci sono anche variazioni un po' a tutte le frequenze, ma quelle che dominano sono queste segnali qui quando il motore del treno viene, cambia la potenza, cambia la velocità e così via, ci sono queste piccole variazioni. Sul treno ci dovremmo tornare perché in realtà se uno si mette proprio sotto, vedete, sta andando il treno, è da qualche parte in Italia, quello che succede è che se quando accende, vedete qui, ha acceso i motori oppure scorre più corrente, sono le variazioni che generano, eccola qua, per esempio, mettiamola in pausa qui, qui c'è stato una grossa scorrimento di corrente che ha creato un campo magnetico che viene rivelato dal nostro magnetometro. L'analisi di Fourier dice, guarda, è stato uno spike gigantesco rispetto ai trenini, come è analogo però a quello dei trenini e quindi c'è il grosso a basse frequenze, quindi parliamo di 5-6 Hz, quindi super bassissimi che noi in acustica neanche li sentiremo, poi c'è un qualcosa alle basse frequenze, però l'interferenza si estende con intensità più bassa fino alle alte frequenze. Sul campo magnetico dentro il treni si possono fare misure molto interessanti ma sarà necessario fare un video a parte. E vabbè, e quindi anche qui chiudiamo con la slide del trenino che sta passando, qui è solo lungo l'ase delle Y e vedete appunto sul campo geomagnetico base, ogni volta che passa il trenino vedete questo spike di interferenza. Questa è misurata all'esterno, si può anche misurare quando il treno passa fuori all'esterno o anche all'interno, ovviamente all'interno del trenino si potrebbe anche fare con un MEMS dentro ma insomma direi che è oltre molto, oltre lo scopo di questo breve video che mostra come potete prendere lo smartphone e misurare i campi magnetici un po' ovunque, sia generati dai motori, sia generati dal campo geomagnetico, sia generati anche da tutte le interferenze che ci circondano ma che non sono pericolose. Grazie mille e alla prossima. Ciao!